Quando una domanda viene posta più volte, ritengo valga la pena di darne una risposta collettiva. La domanda del giorno è che cosa posso utilizzare come alternativa al mio pollicione per poter effettuare la misurazione dell'equotensionamento del set di funi di un ascensore. Se vi interessa la risposta a questa domanda, rimanete con me per qualche minuto e cercherò di darvi qualche indicazione di base. Vi siete già iscritti? Dai, non è difficile. Basta schiacciare il tastino qui sotto e in un attimo siete a bordo. A voi non costa nulla ed a me consente di avere un po' più di visibilità. Se è la prima volta che capitate da queste parti, io mi chiamo Nicola e per completa trasparenza lavoro per la bisessione Televator and Escalator di Prismian Group. A parte questo, in qualità di libero professionista, mi occupo di corsi di formazione. Mi trovate sui principali social network cercandomi come Nicola in bimbo oppure come Nick di Elevator Guy. Fate le dovute presentazioni, torniamo ai nostri argomenti. Ovviamente dobbiamo iniziare da una definizione del sistema equamente tensionato. Definizione che trovate sui cataloghi dei principali fabbricanti di funi per ascensori, ma la trovate anche nella specifica tecnica UNITS 11807. Tra le altre cose, se non l'aveste ancora visto, vi lascio il link qui sopra per vedere il webinar nel quale mi sono occupato di fare la presentazione di questa specifica tecnica all'interno della quale trovate ovviamente anche la definizione di sistema equamente tensionato. Allora, torniamo a noi. Come si definisce equamente tensionato un sistema di funi per ascensori? Un sistema di funi per ascensori si definisce equamente tensionato quando la tensione misurata sulle funi non si discosta del più o meno 5% rispetto al valore medio del set stesso. Quindi capite bene che il pollicione è bene utilizzarlo per fare l'autostop, ma sicuramente non per misurare l'equo tensionamento del set delle funi del vostro ascensore. Perché il mio pollice è diverso dal vostro e nessuno di noi ha un visualizzatore digitale nel cervello per fare in modo di capire qual è la tensione misurata su ogni singola fune. Quindi, essendoci liberati del pollice, cerchiamo di andare a capire se l'utilizzo di un singolo sensore che sposterò di fune in fune è una soluzione adeguata, oppure se mi devo dotare di un set di sensori che installerò su tutte le funi contemporaneamente per capire quello che sta accadendo. Il presupposto per dare una risposta a questa domanda è quello di mettere in chiaro che nel momento in cui regolate la tensione di una fune, tutte le altre funi cambieranno il loro stato di tensionamento. Ora, voi potete realizzare l'equo tensionamento ovviamente utilizzando un singolo sensore spostandolo di fune in fune, ma questa è un'operazione piuttosto macchinosa e come si dice in inglese time consuming. Se voi invece utilizzate un sistema di un sensore su ogni singola fune in tempo reale tramite un visualizzatore riuscirete a vedere quello che sta accadendo e le vostre operazioni procederanno in maniera decisamente più rapida. Ricordatevi sempre che l'equo tensionamento è un procedimento iterativo, il che significa che dovete effettuare l'equo tensionamento e dopodiché dovete far fare un paio di corsi alla cabina d'ascensore per diluire l'equo tensionamento che avete realizzato. E dopodiché ripetere nuovamente la misura, un certo numero di volte, fino a quando non notate che il sistema sarà stabile. L'equo tensionamento ha delle influenze molto importanti sulla durata delle fune in esercizio perché ha un effetto sui allungamenti, sull'impronte in negativo, sulle pulegge, sulla rumorosità, sulla vibrazione e su tanti altri parametri. Inoltre l'equo tensionamento durante l'operazione di funzionamento dell'ascensore viene perso, quindi regolarmente andrebbe riverificato. Quando si dice riverificato periodicamente, si intende dire perlomeno una volta all'anno, o se il vostro ascensore è un ascensore che viaggia molto ad alta intensità di traffico, la raccomandazione è quella di fare una verifica dell'equo tensionamento perlomeno su base semestrale. Gli argomenti sono piuttosto articolati e complessi ed un tutorial non è sufficiente per chiarire tutti i dettagli. Se ne avete la possibilità, cercate di partecipare ad uno dei seminari o dei corsi di formazione che tengo regolarmente in maniera che potremo andare più in dettaglio sull'argomento. Spero che quanto detto fino a questo punto possa essere stato utile e profittevole. Vi invito a lasciarmi un like e un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questo contenuto. Per il momento vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto. Vi saluto, statevi buono, ciao 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 Che cosa posso utilizzare come alternativa al pornicio? Blah 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 blah